eccoci qua con l'addio nubilato di Elena un applauso ad Elena allora Elena con chi ti sposi? con Davide con Davide, dimmi subito un pregio e un difetto di Davide pregio ah si, corre bene corre bene, è già una buona motivazione per sposarsi perché lui corre bene se correva storto non volevo sapere allora un difetto? un difetto che c'è un'amica ah ho capito ascoltami, dimmi un po' da dove vieni e quando ti sposi? aspetta vai da Rubiero mi sposi il 2 dicembre dov'è che si trova quel bel paesino in provincia di? Reggio Emilia Reggio Emilia allora sei pronta a festeggiare qui al convento di Lonato il tuo nubilato? si oh fantastico, dai salutiamo tutti i tuoi amici a casa ragazze salutate tutta Reggio Emilia ciao 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 ciao